Nata qui, per me è davvero una bellissima città, non solo come città ma anche per le persone che mi legano a questa città, quindi ovviamente la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra che è nata qui. Cioè quello che voi avete visto, proiettato in realtà, è qualcosa che è arrivato col tempo, con tanti sacrifici, ma in realtà lì ci sono io ma porto con me tantissime persone senza le quali io non sarei lì. E ovviamente la mia splendida famiglia sì, ma anche un'altra famiglia che è la mia squadra di nuoto, Pavia Nuoto, si chiama appunto così, che mi permette di dire che anche se so che è un momento complicato per questo aspetto, lo voglio toccare solo per dire che questa bellissima squadra e questo progetto per la disabilità è nato in folpetti. Quindi nella piscina comunale di folperti e quindi niente, questo per dire che a Pavia sono legata e spero di poter essere legata ancora per tanto tempo e rappresentarla al meglio.